Se potessi esprimere un desiderio, quale sarebbe? Una casa, un cane, una donna che amo e che mi ama. Non so, questa cosa delle coppie di fatto è ancora nuova. Mi piace l'idea di te come mantenuta. Non so, forse è uno stiramento. Te lo fai controllare? Sì. Sono il detective Laura Lester. Lavoro per il dipartimento di polizia da 23 anni. Mi hanno appena diagnosticato un tumore ai polmoni al quarto stadio. Quando i miei colleghi eterosessuali muoiono, la pensione viene trasferita al coniuge. Ma poiché è la mia compagna e donna, io non ho questo diritto. In tutta la mia carriera non ho mai chiesto favoritismi. Quello che sto chiedendo è uguaglianza. La richiesta viene respinta. Al prossimo incontro ci presentiamo con centinaia di manifestanti. Radicali e sconosciuti di New York non convinceranno questa gente. Non sono un radicale, ma un omosessuale ebreo-borghese del New Jersey. E tu invece, tesoro? Sono uno sbirro etero, bianco, ateo ed ex-protestante. Ti piace questo quadro, tesoro? Tanto, mi eccita quasi. Sono preoccupata per te, sì. Ne ha già passate tante ed è così giovane. Siamo! Non è giusto. No, non lo è. Voglio parlarvi della nostra casa. È qualcosa che mi tengo stretto al cuore. Per ricordare quanto io e lei ci amiamo. È una chance per cambiare il mondo. Siamo per tutti! L'unica cosa che mi interessa è ottenere giustizia per la donna che amo. L'unica cosa che mi interessa